Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi puntata speciale perché sconfiggeremo madre ma non completeremo ancora la serie, non completeremo ancora il gioco. Ci sono diverse cose che si devono fare e che si faranno poi successivamente con la fine di questa parte di gioco, ma lo vedremo con calma. Innanzitutto mi sono dimenticato nella puntata scorsa di farvi vedere tutte le spade dei sette astri come vengono equipaggiate. Quindi ecco questa è il secondo che cambio anche l'abito di Jaster così non c'è la sciarpa che praticamente ci dà fastidio. Ecco mettiamo questo che così non dovrebbe avere... Eh ma c'ha sempre il coso dietro, una porca miseria. Vediamo se con questo qua riesco a farvela vedere nelle altre... Oh, perfetto. Allora, questa è l'ultima spada che abbiamo craftato. La Duke... Non mi ricordo come si chiamava in realtà. Com'era? Che ti chiamavi? La Duke Nightmare. Poi, successivamente, vi faccio vedere la spada di Re Libra maxata. Eccola qui. Quindi questa è la forma massima della spada di Re Libra. Poi, successivamente, vi faccio vedere anche la maxata, la forma maxata della lama del deserto. Eccola qui. La Rondite. Guardate che sono belli i particolari del flusso di energia che scorre praticamente sulla spada. Poi, successivamente, abbiamo l'orgoglio dei Re. Eccola qui. Guardate, anche essa con il flusso di energia che scorre all'interno della spada. Poi, successivamente, abbiamo la Cosmolor. Eccola qui. Guardate che figa. Con tutto l'effetto particolare. Poi, abbiamo l'Ixion, che è quella che abbiamo craftato. Questa si può craftare tramite la forgia. Guardate che belle le forme delle spade. E, tra l'altro, tutte queste spade, come vi avevo detto nella scorsa puntata, possono essere maxate fino a tre volte. Quindi, abbiamo la possibilità anche di renderle più forti. Ed è una cosa che, ovviamente, farò e poi vi farò vedere man mano che continueremo a giocare. Eccola qui il Pegaso, Pegaso 1. E adesso, invece, però, equipaggiamo la nostra Zeo Cycross, livello 3, che è la spada di base più forte di tutto il gioco, che per l'appunto è la manifestazione fisica del potere del cuore e l'unica speranza per sconfiggere madre. Quindi, l'evoluzione finale della Zeo Cycross, che è questa. Non esistono altre versioni al di fuori di questa. Quindi, rimettiamo la tonaca normale di Jaster. Ecco qua. E adesso siamo pronti per sconfiggere madre. Quindi, proseguiamo verso il nucleo e concentriamoci per lo scontro finale. E adesso siamo pronti per sconfiggere madre. E adesso siamo pronti per sconfiggere. E adesso siamo pronti per sconfiggere madre. E adesso siamo pronti per sconfiggere anche per sconfiggere. La stessa è cambiata dopo aver visto la nostra in Galza. Quindi cosa fa pensare che possiamo beat her? Oggi tutti! Credete in la potenza dei Dragellums! Questo è il nostro finale battle! Let's end this! Come on, vediamo se puoi capire! Let's end this! Now, attacca risposta! Jaster! Jaster! Now, attacca risposta! Sì! Allora, attacca risposta! Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima You miserable life forms Do you honestly think you can defeat me When I surpass all beings in the galaxy? What silly wretched creatures You amuse me so What is this? You are not impossible Jaster, what's going on? It's the power of the Star King It's been a while You know, you know, it can't be You know, it can't be It's absurd, ridiculous You no longer exist I have borrowed this young man's body I have borrowed this young man's body in the hopes of correcting the only mistake I ever made Not destroying you when I had the chance I know, you know, it's a man's body of the earth That's right It's over, El Zarbala Non ti ricordi? Tu serviste sempre sotto me e il mio domaine. Tu eri chiamata come la Sorceria Il-Zarbala. Ovviamente, è stato 50.000 anni fa. Non ero mai un vero, fiebile uomo! Sono la madre all'almight! Ora e per sempre! Quindi il rune ha portato le mie ricordi, anche. Quindi mi permette di dare qualcosa in arrivo. Una morto peaceful! Questo è over, Il-Zarbala! Transforma quando ti vuoi! Tu stai stagionando! Non ti vuoi! Non ti vuoi! Non ti vuoi! Non ti vuoi! Grazie a tutti Grazie a tutti I cannot I'll release you from your suffering I'll release you from the endless hell you must live in for eternity No No Mother She's sinking We did it We finally did it Unbelievable We actually defeated Mother It's over It's all over now What's that? Is that Valkog's ship? Why would it be here of all places? How did he find out? So That's the mother of all rune Oh my How glorious How magnificent It's beautiful, sir I've never seen anything so wonderful With all that rune power We could go on to create so many beasts It would be a huge boost to Datron's profitability Shall we collect it then, sir? Yes, do that What's going on? Ohoho 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 Sì, sono stati sottotitoli! Si, hanno avuto questo per un po' tempo. Non è bene. Ora che la madre è morta, la rune sta agita su un'instincte, cercando di fare una vita a prendere. Non pensi che fanno consumere il Valkog e diventare una nuova formazione? Non è impossibile. Sì, questo posto è troppo pericoloso. Abbiamo bisogno di fuori. Non c'è tempo per argomenti, solo riusci! Cosa è? Oh no! Questo è vero! A presto! Grazie a tutti. 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 Abbiamo fatto davvero, papà. Questo non è bene. Il motore dell'acqua è proprio esplodito. Puoi non riuscire a questo. Cosa! RUN! Oh no! La strada! Abbiamo la scuola peggio peggio. Attention dogs! We're pulling out! Is he okay? All right, we're pulling out! Damn, we're goners! We can't give up now! Whoa, what the heck is that? Wings! Is this the power of the rune, too? Look! The rune is disappearing! Look at the sky! Mari Glen is returning to its former self. We did it! We saved the galaxy! Phew! That was one heck of a fight! But don't you feel at peace somehow? Well, I suppose we had some fun, in a way. All's well that ends well! I guess that's it, then. Our journey has come to an end. About damn time. I was getting tired of covering you guys. Come on, Captain. Let's get our treasure and go home. Hmm. What's the matter? Something wrong? No, I'm good. I already got my treasure. Just look at Kisala's smiling face there. That's more precious and valuable to me than any treasure. Don't you think? You're going soft. This here is all I need. Ha 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 ha! So this is goodbye? Yeah. I'm sad. But at the same time, I know I don't belong here. I have to be back in my own place. I know. I understand. You're no longer our baby. Our Eriath anymore. You're Kisala. A dear friend to everyone here. But I want you to always remember one thing. No matter how far apart we may be, you have a mother who's always thinking of you. Yeah. But this is still hard to believe. It's so hard to imagine this Mari Glen is really from 10,000 years ago. You and your friends have brought Mari Glen back to life. Now we can finally return to our own galaxy. Thank you. Well, goodbye, Mom. Please take good care of her for me. Don't worry. You leave that to me. Kisala may be your daughter, but to me, she's like a son. Er, strike that. She's spirited like a son, but she's a very precious daughter to me. I'll keep on caring for her like I always have. Just come out and say it, will ya? She's more of a handful than any boy. What? Hey! Wait just a minute. You know, you got a point there. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha! He, he, he... Uh, ha, 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 ha! Ha, 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 ha. Oh, Albioth, hai visto? Hai visto la nostra figlia? Questa è stata una moglie forte che si è diventata. Tu puoi restare in pazza ora, mio amore, perché sono sicuro che la possiamo entrustare con Mari Glen quando il momento è arrivato. Farewell, Arioth. Tu sei la nostra amore. Oh my gosh! What is it? An unidentified planet has appeared in our path. The Cosmo Navigator doesn't have any data on it. That's ridiculous! No. It's not unidentified. It's Mariglen. What's that? The flow of time has been altered. Don't you see? Mariglen has returned to our galaxy. We really saved it. Well then, let's go check out the new and improved Mariglen, shall we? Yeah. Okay. Are you okay? Yeah. There you go. I have no idea what you're here to move. I'm like, do I want to go? we have been waiting for you lady kasala how we have anticipated this very day huh you mean you know who i am there's not a soul in mariglend who doesn't know your name we mariglendons have kept watching your stead for ten thousand years waiting for your return after all you are our queen me a queen how can that be please take this wait but this is my mother's tiara indeed the ancient queen fredius directed us to bestow it upon the new queen lady kasala who would appear in ten thousand years we have carefully passed down that tiara from generation to generation and now finally we bequeath it unto you i am so pleased oh mom what are you talking about kasala has no interest in becoming this planet's queen come on let's go back home papa wait what i've decided i'm going to do it i'm going to be the queen of mariglen what are you serious kasala i want to carry on my mother's wishes and rebuild mariglen i want to make mom proud this is something that only i can do you're talking crazy talk you a queen why you ain't fit to be queen come on kasala you've got to be kidding think about it you know you're totally not queen material hey wait i'm sorry papa i'm sorry jester well now that you've made your decision please come this way but kisala kisala oh my darling kisala all right let them go i must remind you that lady kasala is to be installed as the queen of mariglen from now on from now on lowly individuals such as yourselves will no longer be allowed to approach her do bear this in mind now if you will excuse me what just happened oh my cute little kasala captain i think this might be the best thing for her everyone has somewhere they've gotta be so is this where kisala's gotta be yeah i think so come on let's get back to the ship yeah what's on your agenda now jester i don't know i think i might just travel through space a little more everyone's gone back to their own planet the dorganoc's feeling pretty empty these days by the way i heard rosa finally got out from under long guardian rule you sure you don't want to head back there yeah eventually it seems like something's holding you back maybe you think a certain someone will come back to the ship if you hang out here long enough oh um it's just that say uh is the captain napping again today yeah that's about the shape of things he's awfully laid back the captain must have forgotten his duties as a pirate ah that's all right i mean look at the huge treasure he's earned galactic peace you know i've never seen the universe so beautiful so serene it's cuz it's a little a lot of pain so if you want to look at you Grazie a tutti 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 Home Grazie a tutti 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 Grazie a tutti